La misa è un tour Longobardi, un tour all'anno 1000. Mi chiamano Roberto Baciocchi, sono ascoltato. Qui c'è Dante Alighieri, che ha scritto un chantere della Divina Commedia, e fa la descrizione di questo punto dell'Arno, che l'Arno fa in curva e va a evitare Arezzo, perché è una ville di gente molto litigia. Sono i dettagli che fa la differenza. Perché là è del sughero. Qui ha fatto il lavoro è perfetto. Questo è il 1700. La pipì era l'ancienne e la pipì modernizzata. Là, c'è la copia di me broche. E io l'applico sulle mura per dare qualcosa di brutto e una particolarità. Io non farò solo il rotiziere. Celui-ci è la voia per le ore d'or. Dimmi. La particolarità della casa è che ho concentrato là tutte le cose che mi piace, senza pensare a fare qualcosa per gli altri. metà la prima e la prima è più piccolo. Perché è quel punto che mi piace.